Il Tribunale del Riesame di Benevento, sezione misure reali, ha respinto l'appello della Procura di Benevento, proposto contro il provvedimento della GIP Loredana Camerlengo, che aveva negato la richiesta di sequestro dei beni di 11 imprenditori, dei quali 7 residenti a Montesarchio e gli altri a Cervinara, Foriodischia, Milano e Bietri di Potenza. Il sequestro era stato richiesto perché, secondo la Procura di Benevento, sulla base delle informative della Guardia di Finanza, gli imprenditori avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti in relazione alla gestione di due imprese e di le cartoleria, che sarebbero state solo apparentemente operative. Sempre secondo la Procura, le imprese non avevano presentato nessuna dichiarazione fiscale negli anni 2019-2020, pur avendo emesso numerose fatture in favore di uno stretto numero di ditte operanti nei settori dell'elaborazione dati, fabbricazione porte e finestre, gestione commerciale di beni immobili, promozione pubblicitaria, installazione di impianti elettrici, realizzazione e completamento di edifici e abbigliamento. Il Tribunale ha accolto la tesi dei difensori degli indagati rappresentati dagli avvocati Vittorio Fucci, Fabio Russo, Isidoro Taddeo, Guido Principe, Togo Verrilli, Carmelo Sandomenico e Claudio Barbato e ha respinto l'appello della Procura, non consentendo così il sequestro dei beni degli imprenditori. Ora appende presso il Tribunale del Riesame di Napoli l'appello proposto dalla stessa Procura di Benevento contro l'approvedimento dello stesso Gip Camerlengo, che ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari di obbligo di firma e del divieto per l'esercizio dell'impresa per 12 mesi a carico degli imprenditori indagati. Un operaio, residente in provincia di Napoli, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale del mare di Napoli a seguito di un incidente sul lavoro. Infatti il mezzo pesante, che stava conducendo in un cantiere di Castelpagano per svolgere le sue mansioni di lavoro, impiegato in una ditta di trivellazioni, si è capovolto andandogli addosso. I colleghi hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo ed il nucleo ispettorato del lavoro per le indagini del caso. Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi. I carabinieri hanno denunciato ben tre furti in abitazione avvenuti durante la notte tra San Giorgio del Sannio e San Nazaro. Infatti il primo furto è stato messo a segno nella cittadina sannita. I seguenti due invece a San Nazaro, nel vicino comune di San Giorgio del Sannio. Nel primo caso, durante la serata, i ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari dall'abitazione, sono entrati in casa arrampicandosi da una finestra ed hanno rubato un orologio dal magro bottino di circa 150 euro. Nel secondo caso, a San Nazaro, in un'abitazione, hanno rubato della gioielleria in oro ed un fucile calibro 12. Invece nel secondo appartamento hanno asportato altri oggetti in oro e 350 euro in contanti. Sul posto i carabinieri di San Giorgio del Sannio, che stanno indagando per scoprire l'identità dei malviventi fuggiti. Non si esclude una correlazione tra i reati. È calato il sipario su Vinalia, trentesima edizione che rientrava in un progetto cofinanziato dalla Regione Campania, assessorato alle attività produttive nell'ambito delle iniziative promozionali nel comparto agroalimentare delle aree interne e in particolare dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione Campania e la Camera di Commercio Erpigna-Sagno e si avbalza inoltre di un contributo del Galti Terno. Ai microfoni di TV7 l'addetto stampa della manifestazione Sandro Tacinelli. Le novità sono tante, però il canovaccio è lo stesso, perché lo show cooking, per esempio le sette serate su questo stupendo maniero che fu dei San Framondo, in questo piazzale d'arme, porta qui sette chef uno più bravo dell'altro ed è una crescita perché noi in 13 anni abbiamo iniziato così non per gioco ma per provare, per dare un'offerta ai tanti visitatori, ai tanti cultori appassionati e oggi ci ritroviamo con tanti chef blasonati che non dico fanno la coda per venire qua ma ci pressano per poter essere con noi. Altra novità è l'arricchimento del Borgo degli Artisti con Vinarte, guidata e diretta dal professor Giuseppe Leone, con tantissime opere di pittura, scultura, installazioni e fotografie di artisti di grande grande valenza. Per quanto riguarda poi la musica, anche lì una crescita esponenziale notevole perché ogni sera ci sono due gruppi, il gruppo jazz in piazza Fabio Colino e il gruppo che trascina, che fa ballare, che ci porta in allegria quello di piazza Mercato con il quale domani sera chiuderemo con Calici di Stelle, la manifestazione nazionale promossa dalle città del vino e dal movimento del turismo del vino e con la notte della Falanghina perché noi di Vinalia vogliamo fare un brindisi augurale proprio nella notte di San Lorenzo per esprimere un desiderio tra un bicchiere di Falanghina e un altro. La comunità dei Fatebene Fratelli ha solennizzato il 10 agosto la ricorrenza onomastica di Fra Lorenzo Gamos, superiore dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento. Nella sala congressi della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli alla presenza del padre provinciale Fra Luigi Gaiardotto si sono ritrovati sacerdoti religiosi superiori delle altre strutture del Fatebene Fratelli, il personale medico, paramedico, amministrativo e volontari per vivere assieme a Fra Lorenzo una giornata ricca di emozioni che da sempre contraddistingue il clima di questa comunità e famiglia ospedaliera. Fra Lorenzo Gamos ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari e coloro che secondo le proprie competenze e professionalità si adoperano per il bene degli ammalati. L'anno prossimo saranno 410 anni di presenza dei religiosi dell'Ordine di San Giovanni di Dio a Benevento mentre l'ospedale Sacro Cuore di Gesù ha compiuto quest'anno 130 anni. Fra Lorenzo ha voluto anche ricordare il cinquantesimo della preziosa collaborazione delle suore presso la struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli. La comunità accademica dell'Unifortunato formula i più sentiti e grati auguri al magnifico rettore Giuseppe Acocella in occasione del 75esimo anniversario. Personalmente a nome dell'intero consiglio di amministrazione, afferma il presidente Gianni Locatelli, desidero esprimere al professore Acocella un particolare ringraziamento per la costante collaborazione nella gestione della complessa macchina dell'Ateneo. Prossimamente l'Università si farà promotrice di una giornata di studi in onore del professore Acocella quale ulteriore segno di riconoscenza anche per le stancabili attività scientifica realizzata in 50 anni di carriera accademica. La Gesesa comunica che per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi lo sportello al pubblico, sito e località Pezzapiana, lunedì 14 agosto, resterà chiuso al pubblico. È sempre attivo il call center commerciale 800 250 981, gratuito, sia da telefono fisso che da cellulare. Ho letto la nota stampa della consigliera Destasio in merito al malies mercato commestibili e ritengo necessario intervenire per cercare di fare chiarezza in proposito. La nota della consigliera, forse a seguito di incomprensioni che si possono essere verificate durante l'audizione in commissione consigliare lavori pubblici del RUP Nave, è assolutamente fuorviante e gratuitamente ingenerosa nei confronti dell'operato dell'amministrazione, probabilmente prima di sparare a zero sarebbe opportuno approfondire le questioni. È necessario fare alcune precisazioni? Il progetto in corso di definizione inerente al malies e al complesso ex orsoline nasce dallo studio di fattibilità che ha ottenuto il finanziamento di oltre 14 milioni di euro poi transitato nell'ambito della PNRR. Così, in una nota, l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello. Detto studio prevede la realizzazione del Ben Lab, Benevento Living Lab, un urban center innovativo, uno spazio di incubazione di imprese ed un luogo di partecipazione e di incontro. In particolare per il complesso dell'ex orsoline, lo studio di fattibilità prevede la realizzazione agli ultimi due piani di alloggi per edilizia residenziale sociale mentre al piano terra l'allestimento di spazi aperti fluidi e modulabili specificatamente dedicati alla contaminazione funzionale. Questi e tanti altri progetti in campo per creare due livelli di cui quello al piano terra sarà destinato di giorno al mercato ortofrutticolo e durante le ore serali alla fruizione dei cittadini, quello sottostante allo svaghi alla ristorazione nell'intero corso della giornata. Ordunque le preoccupazioni della consigliera Destasio, conclude l'assessore Pasquariello, sono del tutto infondate. I progetti PIX accelerano il percorso della città di Benevento verso la frontiera della Smart City e della città ecosostenibile. Le quattro panchine intelligenti e multimediali collocati a Piazza Roma ne sono una dimostrazione plastica e lampante. Lo dicono in una nota il vice sindaco delegato all'attuazione dei PIX, Francesco De Pierro, e il presidente della commissione PIX, Antonio Piccariello. I cittadini potranno fluire di un congegno high-tech multifunzione a zero impatto grazie all'impiego dell'energia solare e prezioso per molte funzioni di utilità pratica. Gratuitamente sarà possibile connettersi a internet, ricaricare le batterie di telefonini e tablet, collegandole alle porte USB, monitorare la qualità dell'aria attraverso i sensori e ricevere informazioni sul traffico e sul meteo. Le prime lievi irrigature su una delle panchine smart sono però un pessimo segnale. Sollecitiamo sulla scia del sindaco Clemente Mastella in un recente appello gli stessi cittadini ad essere le prime sentinelle rispetto ad atti di inciviltà molto gravi e per i pali non può esservi e non vi sarà nessuna indulgenza. È stata presentata ufficialmente la rassegna Sere d'Estate a Calvi, Raggio di Luna 2023, giunta alla quattordicesima edizione, organizzata dall'amministrazione comunale di Calvi in collaborazione con le associazioni socioculturali e sportive presenti sul territorio. Una rassegna rivolta a tutti, dai più giovani ai più saggi, in cui teatro, musica, arte, danza, canto, poesia agiscono in sinergia, illuminati da un raggio di luna calvese tra tradizione e innovazione, tra passato, presente e futuro. Una rassegna composta da oltre 20 eventi, alcuni storici, altri di assoluta novità, destinati ad un pubblico ampio e variegato per incontrare il gusto di tutti. TV7 ha seguito la conferenza stampa al termine della quale ha incontrato il sindaco Armando Rocco intervistato da Alfredo Salzano. Entra avanti per oltre un mese, Sere d'Estate a Calvi, Raggio di Luna 2023, e la rassegna estiva organizzata dall'amministrazione comunale di Calvi in collaborazione con la Parrocchia e l'associazione socio-culturale e sportiva presente sul territorio. È un dono che facciamo alla comunità, sono tantissimi eventi, ben 22 eventi, di cui 16 organizzati dall'amministrazione comunale, è un dono che l'amministrazione e le associazioni fanno alla propria comunità. Sono eventi destinati a tutti, dai più giovani ai più saggi, sono eventi che partono dalla base, nascono dalla base per soddisfare ogni singolo cittadino, ogni singola persona di questa comunità. Sono eventi molto variegati, eventi storici come il Festival Internazionale degli Artisti di Strada, aggiunto ormai alla quattordicesima edizione, ad eventi nuovi come il Freestyle di Motocross, che è una novità per tutto il Centro Sud, come il Concerto dei Nomadi, perché non ci limitiamo soltanto al semplice concerto dei Nomadi, unico per il Sagno, ma vi è prima, il giorno precedente, il raduno nazionale di tutte le cover dei Nomadi, ufficiali, con il raduno dei fan dei Nomadi. Quindi è un evento nell'evento, per poi artisti importanti, quale Peppe Odice, il 17, e tanti altri eventi veramente dedicati alla nostra comunità. Domani si parte con l'omaggio dell'Arte di Filippo, organizzato dal Centro Culturale Calvi, è stato il leader e tuttora riconosciuto del Teatro Napoletano, per poi eventi veramente per tutti, per tutte le età, per tutte le fasce dei cittadini, per il Calvi, per il Sagno, ma non solo. Sicuramente attenereranno tantissime persone, come già l'hanno fatto gli eventi consolidati negli anni trascorsi. L'assessore alle attività produttive, Luigi Ambrosone, rende noto che con una delibera, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di domanda per le segnalazioni dei danni da avversità atmosferiche o calamità naturali, finalizzato ad individuare, controllare e quantificare i danni subiti sul territorio locale, dall'elevata e persistente umidità, unitamente al ristagno dell'acqua, dei vigneti, con diffusione di infezioni da peronospora, sia della famiglia peronosporace, sia della famiglia piziace. Gli interessati potranno compilare il modulo presente sul sito dell'ente. Sarà cura dell'ente stesso inviare le segnalazioni alla Regione Campania, affinché vengano attivate le procedure finalizzate a richiedere al Ministero dell'Agricoltura l'emissione del decreto per l'annualità 2023 dell'eccezionale avversità per le piogge del mese di maggio 2023. Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la campagna abbonamenti 2023-2024. Fai la tua mossa! Al 10 agosto, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 1208. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news, www.tv7.net, oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.